Buonasera e benvenuti, andremo adesso a vedere le previsioni del tempo per domani il 9 settembre. Come potete vedere a Parigi avremo pioggia e nuvoloso per tutta la giornata, mentre il tempo va migliorando nella zona di Lione dove ci sarà solo vento forte per metà mattina, invece i guai seri si troveranno a Nizza e a Monaco, dove potete notare che ci sarà una tromba d'aria dovuta anche ai venti di Maestrale e al vento di Ponente che soffiano incessanti in quella fase. Vi ringraziamo ancora per averci seguito e spero con vivissima apprezzione che voi non dobbiate usare la macchina perché sulle autostrade ci potrebbe essere il pericolo di grande. Grazie mille.